E Platone, amici miei, oggi saggiamente riflette colui che è saggio desidera sempre stare accanto a chi è migliore di lui. Eh sì, è proprio vero ed è provato. Colui che è saggio desidera davvero stare sempre accanto a chi è migliore di lui. Quante persone poco sagge vediamo intorno a noi.